Grazie a voi, per me è un onore partecipare al vostro programma. Il cartellino dà un chiaro messaggio di cosa significa essere ebreo. Sono ebreo, non sionista. Pregate per il rapido, pacifico smantellamento dello Stato di Israele. Poi c'è l'indirizzo web www.nkusa.org e il messaggio è ripetuto in arabo. Sfortunatamente, quando uno vede una persona come me, con il tradizionale abito degli ebrei religiosi e osservanti, immagina che io sia un grande sostenitore dello Stato di Israele e dell'occupazione della Palestina. In realtà non potrebbe esserci nulla di più lontano dal vero. L'ebraismo consiste nell'accettare la sovranità dell'onipotente e osservare l'alleanza con lui. Così è stato praticato per millenni. Il sionismo invece è un movimento relativamente recente, un movimento politico, materialistico, nazionalistico, che propone un progetto proibito al popolo ebraico. Ok, we'll have to unpick this piece by piece, I think, because for most people, the idea of the State of Israel is fixed within a very rigid framework, and what they understand about the existence of Israel is, by and large, very uniform, at least according to what you read in the newspapers. So let me try and get your position clear on this. What you're saying is that the existence of Israel is somehow against your religion. La religione degli ebrei sostiene che, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, un divino decreto, la profezia di Re Salomone, ci proibisce di cercare di riprendere il controllo della Terra, della Terra Santa. Il controllo anche di un solo centimetro quadro della Terra è una violazione del decreto divino, e ciò sarebbe proibito anche se la Terra fosse disabitata. Noi aspettiamo il giorno in cui il Signore farà sì che tutta l'umanità lo serve in armonia, e prima di quel momento ci viene espressamente proibita ogni iniziativa nazionalistica. E tale principio è stato osservato costantemente nel corso della nostra storia, anche durante le tragedie delle crociate e dell'Inquisizione. Sebbene gli ebrei avessero la capacità di acquistare terra in Palestina, si rifiutarono sempre di farlo, perché erano consapevoli che ciò è contrario alla volontà del creatore, ed è una negazione del nostro essere ebrei. No, questa è la posizione tradizionale degli ebrei osservanti in tutto il mondo. Qualsiasi comunità ebraica osservante, come si legge in Dovabe Speak Out, i rabbini parlano chiaro, sia Sefardita, Ashkenazita o Misrai, cioè Medio Orientale, fin dall'inizio si oppose al sionismo. Quando questo emerse, la risposta degli ebrei osservanti fu no, ci è proibito scegliere il nazionalismo invece dell'obbedienza al creatore. Quando poi il sionismo entrò in azione, l'idea stessa di rubare la terra, di uccidere e così via, era in totale conflitto con la Torah. Il sionismo e il ribellione ai precetti del Signore. In ogni facet, il sionismo è una ribellione contro la commande di Gode. Ma l'idea di un argomento, che la Biblia specifica dice che questo lad è stato dato a tutti gli ebrei gli ebrei gli ebrei gli ebrei. Proprio per questo motivo i sionisti a un certo punto decisero di stabilire il loro stato in Palestina. Infatti, i padri fondatori del sionismo alla fine del XIX secolo pensarono a Luganda, alla Patagonia, perché erano contrari alla religione. Individui come Theodor Herzl, David Ben-Gurion, Vladimir Jabotinsky, detestavano la religione, come appare chiaro dai loro scritti. Herzl propose di convertire gli ebrei al cristianesimo, sostenendo che quella sarebbe stata la soluzione della questione ebraica. Lo dice nel suo diario. Inoltre, non volle circoncidere suo figlio e si oppose apertamente alla religione. Il loro progetto era un progetto puramente mondano, coltivare e colonizzare la terra. Ma poi si resero conto che per realizzare quel progetto c'era bisogno di un massiccio sostegno finanziario che poteva essere offerto solo da altre nazioni. E così proposero il progetto della Palestina, presentandosi al mondo come coloro che realizzavano la profezia biblica della redenzione, dato che nella Torah si legge che la terra fu data agli ebrei dal Signore. La miahmissima anche un problema negativo perché marcello che ioperti la loro famiglia, perché invece la loro famiglia mentre gli italiani sono stati consapevoli della laurea. I ho amare l'agire della famiglia di tratti dell'erroco or inoltre, perché non c'era una famiglia di rispettere l'erroco a Präsidenti. Quindi, la loro famiglia non perlengono il cultura della famiglia del terapia. Oltre un paese di rispettere ieri della famiglia di rispettere l'erroco di accumulare questo non c'è una prismisscia più parte dell'erroco? La Shoah è un evento davanti a cui possiamo solo accettare la volontà del Signore senza metterne in discussione gli attributi di pietà e di misericordia o di giustizia nel punire i nazisti, ma al contempo è assurdo usare l'argomento della Shoah per giustificare una ribellione contro il decreto divino, di non fondare uno stato ebraico. E poi sottrarre la terra ai palestinesi, uccidere, tutto questo è il modo peggiore di commemorare coloro che perirono nella Shoah per i loro esseri ebrei. Sì, l'idea che il Signore è sovrano di questo mondo, un Signore misericordioso e che è un bene per il popolo ebraico, come osservò Rav Samson Hirsch, una delle guide della comunità tedesca, dal tempo della distruzione del Tempio di Gerusalemme, essere dispersi tra le nazioni. Ciò infatti costituisce sì una punizione per la nostra superbia, ma è al tempo stesso una benedizione per il mondo, perché se seguiamo i precetti dell'ebraismo, noi possiamo costituire un modello di misericordia e di servizio divino. Quindi l'esilio ha un duplice scopo, ma purtroppo se noi non adempiamo i nostri doveri, non costruite la proposta. Io non ho una studessa di scopo, quindi non c'è un giudice di giudicazione, quindi non so, non so, non so, non so, ma anche se ci sono statui in cui non so. Ma c'è un po' di rispondere a qui, ciò in cui è stato di essere stati in Israele, nello di Ravamo, a think, di Ravamo, perpettato da un paio di numeri di modemismo in moderni, che dicono, non, è perfetto di compara con il rispondo di Torra, che abbiamo un Stato di Israele e, in realtà, non è un problema di politica, ma è anche religione, Non pretendo certo che altri diventino studiosi o esperti di ebraismo, ma basta semplicemente uscire dal proprio circoscritto orizzonte e andare a Gerusalemme, a New York, a Londra, e si troverà che tutte le comunità religiose e osservanti sono antisioniste. Per esempio a Williamsburg, vicino a New York City, non si vedono bandiere israeliane. A Gerusalemme, in Palestina, gli ebrei religiosi non mandano i propri figli nell'esercito e non mettono bandiere israeliane alla finestra, perché ebraismo e sionismo sono opposti e si contraddicono a vicenda. Certo, e si fondono le due cose, si appropriano del nome Israele e della stella di Davide, li usano, e così sono riusciti, incorporando sentimenti ebraici, dichiarando che siamo stati mandati in asilio dall'onipotente, proclamandosi iniziatori della redenzione divina, almeno coloro che sono credenti, sebbene molti non lo siano, così sono riusciti a ingannare individui scarsamente religiosi o agnostici. Non è però questa l'immagine della maggioranza degli ebrei osservanti. Essi si oppongono ai coloni. Questi coloni sono una minoranza che è sempre sotto i nostri occhi, sono in prima linea, creando questa terribile situazione, in particolare con l'infragio a ogni fondamentale comandamento. Non uccidere, non rubare. Stanno davvero causando fiumi di sangue a motivo dell'odio che suscitano intorno a loro. No, you used the phrase a moment ago, taking land from the Palestinians, which again is a problematic one for a lot of Western educated, Jews and non-Jews alike. There is an argument, which is very much in the news right now, that there is no such thing as a Palestinian people, and there is an argument that says the lands that we are talking about never belonged to anybody called Palestinians. So what do you mean by taking Palestinian land? Ai sionisti piace usare un gergo sofisticato e fuorviante, terra palestinese e popolo palestinese. Ma il punto è che abbiamo degli individui, delle persone che abitavano in villaggi, come Deir Yassin, o gli ebrei di antiche comunità a Gerusalemme, che ancora ricordano i tempi in cui si viveva in armonia con arabi e musulmani. Questi sono i giochi di parole della retorica sionista. La realtà storica è che la stragrande maggioranza della popolazione autoctona era araba o musulmana, sia al tempo dell'impero ottomano, sia negli anni del mandato britannico. Scapparono perché attaccati, come è a Deir Yassin, o fuggirono terrorizzati dopo aver saputo dell'atrocità di Deir Yassin. Noi ebrei abbiamo il precetto religioso, peraltro si tratta di rispetto dei diritti umani, di non rubare la terra. Noi ebrei abbiamo forbidden per la terra. So, let me just paraphrase, if I could, what you've told us so far. The State of Israel has no legitimacy, it shouldn't exist at all, that Jews are responsible for rivers of blood, as you put it, in the Palestinian lands, that the Holocaust is no sufficient reason to override the basic Jewish premise that the Jews should not have a land of their own. I may not have quoted you entirely accurately, but even if someone like me were to even hint at thinking like that, I would be branded anti-Semitic, I would be vilified in the mainstream media. So the question is, are you anti-Semitic? That is the beautiful ploy of Zionism, that they can intimidate anybody who stands in opposition. Certo, questo è il trucco con cui gli sionisti mettono a tacere chiunque si opponga al loro programma di trattamento disumano dei palestinesi. Vorrei mostrarle alcune immagini di nostri core religionari e non possono certo accusarci di essere armati e militanti, che sono brutalmente picchiati in Israele semplicemente per il fatto che fanno dimostrazioni e si oppongono all'esistenza dello Stato. E parliamo di decine e decine di migliaia di persone che protestano pacificamente e vengono brutalmente picchiate. Sì, e posso mostrarle. Può vedere che stanno facendo una dimostrazione pacifica. e questo è che accorre. E questo è quello che sta succedendo. Ma il argumente che you ha fatto è stato interpretato da maggiori delle persone che vedono ancora in ling lingue e le persone con le persone guardate in lingue e le persone che sono stati prima faci, anti-Semitic. Come ti fa senti, che cosa mi fa senti che sia una rappresentazione di una religione che è stato trastando in la media di una come completamente contra di questo? Questa è la tragedia di una situazione in cui i media sono in gran parte di proprietà e in parte controllati e intimiditi da gruppi sionisti, come per esempio l'IPEC, cui i politici non osano opporsi per timore di ricevere il marchio di antisemita. Noi invitiamo chiunque a venire a New York, non possiamo comunque dare visti turistici. Quindi attraversate il ponte, il Williamsburg Bridge, e vedrete che le maggiori comunità ebraiche, ecco, qui siamo a Washington DC, quando Netanyahu venne a far visita al Presidente Obama, si possono vedere decine e decine di migliaia di ebrei che protestano contro l'esistenza dello Stato di Israele, la sua politica, le sue attività, e nessun giornale, neppure il Washington Post, nessun giornale riporta mai la notizia. E' incredibile. Mentre quando i sionisti fanno una piccola dimostrazione con 50 persone... Lei dice che siamo antisemiti. Tutte le organizzazioni di beneficenza, ogni forma di crescita all'interno del mondo ebraico, tutto proviene da queste comunità. Non solo non siamo antisemiti, ma noi siamo molto preoccupati. Ma è proprio perché noi siamo profondamente preoccupati per la vita fisica e spirituale del popolo ebraico. Dicevamo che i sionisti stanno causando fiumi di sangue nel Medio Oriente, mentre noi tutti, ebrei, musulmani e cristiani, potremmo vivere in pace. E' per questo che noi preghiamo per il rapido e pacifico smantellamento dello Stato di Israele. Allora, una delle altre obsevazioni che io mi faccio, tutto quello che hai detto, in molti mani, riflessi, funnily enough, la visione di Presidente Ahmadinejad, di Iran, che tu hai just visitato. E' ovviamente, è verificato come il più anti-Semitic in il mondo, con il sole aim di eliminare Non sono il suo avvocato, non conosco i suoi intimi pensieri. Sta di fatto però che perfino i giornali sionisti hanno ammesso che Ahmadinejad fa donazioni alle comunità ebraiche. Ma ciò che egli non tolera è l'oppressione del popolo palestinese. E ripete costantemente che l'Iran non ha una storia di oppressione, non parla di far del male ad alcuno. E noi siamo d'accordo con lui che il sionismo costituisce un pericolo per gli ebrei. È scritto nella Torah che ogni atto di ribellione contro l'unipotente è destinato a fallire e avrà risultati catastrofici. Il sionismo ha già avuto risultati catastrofici e ci si può aspettare di peggio. Ha avuto un'attività catastrofici e ci si può essere molto più vero. Tu parla con grande passionazione. Tu hai supporti materiale. Tu sembra dedicare un'attività di vita a questo caso. Molte persone lo guardate e pensate, che un'attività, magari un'attività, magari un'attività, magari un'attività individuale. Doi ti senti molto attrazione? Doi senti che qualcuno è sentito, E' per questo che diciamo che i sionisti ridicolizzano i loro oppositori, li chiamano antisemiti o ebrei senza rispetto di sé. Per questo motivo noi invitiamo chiunque a studiare la composizione delle comunità ebraiche sparse per il mondo e si troverà che quelle veramente osservanti e religiose, tutte quante, dall'Australia all'Argentina che ho visitato recentemente, tutte condividono le nostre stesse posizioni. La grande guida spirituale Ralph Teitelbaum, pace all'anima sua, scomperso circa 30 anni fa, gli fu chiesto dove trovasse la forza di opporsi al sionismo e la sua risposta fu, io non mi trovo in una minorenza, io sono dalla parte del creatore che regge questo mondo e ciò dà forza alla nostra posizione. Ad ogni modo, noi continuiamo il nostro lavoro e sarà l'onipotente intervenire. Noi intanto preghiamo per lo smantellamento pacifico dello Stato di Israele. La prego, non creda di essere tacciato di antisemitismo se prende posizione contro le oppressioni e le sofferenze dei palestinesi, della popolazione di Gaza. Non si sente intimidito e non ripete la propaganda sionista, così che tutti possiamo presto vivere in pace nella terra e servire il nostro creatore. Rabbi, grazie per parlare con Al Jazeera. Grazie, è un onore e un privilegio. Grazie, è un onore e un onore e un onore.